Ave legionari! Immaginate di poter fare delle interviste ai grandi generali romani, ai grandi personaggi del passato e avere una risposta dalla loro viva voce. È una novità che Scriptamanent lancia nella divulgazione per innovare e che adesso vi spieghiamo che cosa significa. Anzitutto, per chi vuole acquistare il meraviglioso legionario romano che teniamo nello sfondo della nostra scenografia, sul sito trizioeditore.it trovate il legionario romano in resina, meraviglioso poi lo descriveremo nei dettagli, con tutto l'equipaggiamento proprio del soldato romano. Quindi, mentre grande successo acquistate il legionario romano, la nostra innovazione tecnologica ha questo concetto. Alla metà degli anni 70 c'era un programma radiofonico che si chiamava Le Interviste Impossibili, cioè si facevano delle domande e dei grandi scrittori, saggisti e storici, fingevano di elaborare delle risposte dei grandi personaggi che potevano essere verosimili, che esprimevano al meglio la loro personalità. E quindi le persone ascoltavano questo programma radiofonico e sembrava di ascoltare l'intervista a Nerone, a Napoleone, a Giulio Cesare e così via. Noi abbiamo ripreso questo concetto delle interviste impossibili. Abbiamo preparato delle domande molto ficcanti ai grandi personaggi romani. Abbiamo studiato sulle fonti antiche la loro vita e soprattutto il loro comportamento, il loro modo di fare, di prendere le decisioni, il modo di reagire alle avversità, anche le battute che ci sono state tramandate, che potevano darci un'idea delle loro caratteristiche, del loro temperamento. E abbiamo elaborato delle risposte verosimili che i grandi generali ci avrebbero potuto dare. Delle risposte storicamente ineccepibili, delle risposte che contengono dati storici reali. Però attenzione, non ci limitiamo a fare delle interviste ai grandi generali con delle risposte verosimili, ma le risposte vengono date dalle statue dei grandi generali romani che sono state opportunamente animate e dotate di voce come se rispondessero realmente alle nostre domande. Cominciamo per esempio con Giulio Cesare che si presenta e ci dirà quali argomenti affronteremo con lui nei prossimi video. Innanzitutto voglio ringraziarvi per avermi ospitato. Sono onorato. Non pensavo che dopo così tanto tempo il mio nome sarebbe stato ancora ricordato. Sono davvero commosso dal fatto che la mia figura incarni ancora la potenza di Roma a distanza di centinaia di anni. Parlerò con molto piacere della guerra gallica. Risponderò a quanti mi accusano di aver commesso un genocidio contro di loro. Niente di più falso. Sono accuse mosse dagli ottimati che parlano dal loro comodo scranno in Senato. Fui alleato di molte tribù galliche. Fui costretto alla violenza solo quando queste tribù disattesero gli accordi o uccisero i nostri ambasciatori. Quale generale romano avrebbe permesso una tale offesa. Parlerò anche della guerra civile contro Pompeo. Fu una guerra dura che fui letteralmente costretto a combattere contro la mia volontà. Ci sono molte testimonianze del fatto che ho lasciato in vita molte persone pur avendo la loro esistenza nelle mie mani e avendomi loro profondamente offeso. Infine risponderò a alcune domande sulla mia morte. Grazie ancora per avermi dato questa opportunità di parlare. Abbiamo visto Giulio Cesare, come vedete ha preso voce, ha risposto, si è presentato. E adesso vi facciamo un altro esempio. Dopo Cesare Augusto, il fondatore del Principato, il primo imperatore, anche lui ha portato avanti una propaganda imperiale che dura per secoli, ha avuto grandi avversari. Sentiamo dalla sua voce gli argomenti che affronteremo con lui e cosa ci dobbiamo aspettare dall'intervento in persona di Augusto. Ringrazio mio padre adottivo, Cesare, da cui tutta la mia carriera politica deriva e che ho cercato di imitare, sicuramente senza riuscirci. Vi parlerò di come ho fatto l'esclusivo interesse dello Stato romano e di come ho vendicato gli assassini di mio padre, eliminando un grave pericolo per tutti i romani. So che mi verranno fatte domande sul mio rapporto con Marco Antonio. Un grande romano che stimo e sono convinto avrebbe avuto un destino diverso, se non fosse stato traviato da una pericolosa meretrice come Cleopatra. Una pericolosa manipolatrice, che si è permessa in maniera indecente di usare i territori romani come se fossero delle sue proprietà private. Vi parlerò di come ho governato Roma senza mai voler prevaricare gli altri, ma sempre rispettando il ruolo del Senato, rispondendo a precise richieste dell'aristocrazia, e avrò modo di chiarire molti aspetti sugli ultimi anni della mia vita, che sono stati per me duri, schiacciati dal potere e dalla terribile notizia della disfatta di Teutoburgo. E adesso l'imperatore Costantino, che in realtà non tutti gli appassionati di storia amano perché ha traghettato l'impero verso la sua fase cristiana. Anche Costantino verrà intervistato, gli faremo delle domande ed ecco la sua presentazione. Questa intervista che ho volentieri concesso sarà molto utile e illuminante. Dovrò parlare di molti lati oscuri della mia carriera e del mio regno come imperatore. So di essere accusato da gran parte degli appassionati di storia romana di aver traghettato l'impero verso il cristianesimo. Molti non sono consapevoli delle sfide che ho dovuto affrontare. A molti sfugge il fatto che ho semplicemente riconosciuto il valore di una forza religiosa e sociale che non potevo assolutamente ignorare. A tanti sfugge che non ho mai vietato i culti pagani. Chi mi accusa lo fa solo per ignoranza. La fondazione di Costantinopoli da parte mia è stata una scelta che, alla luce dei fatti, ha permesso alla cultura romana di prosperare per centinaia di anni dopo il collasso dell'impero occidentale. Raccoterò e spiegherò molte cose che tutti voi non avete capito e vi farò comprendere come la gran parte delle mie scelte sia stata dettata da una visione di lungo periodo e la storia mi ha dato ragione. Bene, abbiamo visto come Costantino è pronto a combattere, è pronto a difendersi perché è abbastanza polemico come tipo. Quindi ecco la novità di scritta Manent, queste interviste ai generali romani che prendono vita e rispondono muovendosi e parlando. Nei prossimi video di scritta Manent faremo le nostre interviste. Il primissimo personaggio è Publio Cornelio Scipione, il grandissimo avversario di Annibale, il protagonista della battaglia di Zama, che in esclusiva darà la sua intervista a scritta Manent. Rimanete collegati, iscrivetevi al canale, se no andiamo tutti questi personaggi a casa a parlarvi nell'orecchio mentre dormite, quindi iscrivetevi a scritta Manent e aspettate questa nuova grande serie dei generali romani che prendono vita e rispondono alle nostre domande.